Sappiamo, almeno noi, noi di Parma, i parmigiani sanno cosa vuol dire quando si parla di Massimo De Santis, del gol di Cannavaro, della partita del 3-3 a Lecce dove con delle telefonate doveva indirizzare la partita e farci andare in Serie B, l'arbitro che è stato condannato, proprio quindi un problema per il Parma Calcio, ecco, oggi era in tribuna che esultava e grazie a qualche ex presidente, qualche ex dirigente, qualche tifoso è stato allontanato. Lo dico io Marco, lo dici tu. È stato, devo dire i nomi? Fallo, fallo. Vabbè sì, Marco Ferrari, grazie a Dio, Paolo Conti, grandissimo tifoso del Parma, insomma qualche grande tifoso e qualche conoscitore, per fortuna l'ha allontanato dallo stadio, ecco, i dirigenti del Parma. Alla sera che ho visto anch'io. Bene, i dirigenti del Parma in questo momento, coloro che comandano il Parma non sanno neanche chi è Massimo De Santis, allora partiamo anche da quello, ci vogliono persone adatte, perché se non parti da quello, è inutile parlare di Pecchia che oggi ha fatto il disastro sportivo, perché oggi ha fatto delle cose Pecchia che sono fuori da ogni logica, ma ci sta, ma quante ne ha fatte Scala Marco? Poi con l'ausilio di mio padre, di Pastorello, delle persone che erano dietro si rimetteva in bolla. Qui non c'è niente, qui non c'è niente che assomiglia a una società e l'aneddoto di De Santis, allontanato dai tifosi, penso che sia che la dica lunga, perché è una società normale, lo va a prendere, dice guardi si metta adesso un attimo in uno skybox nascosto, perché insomma non siamo dei pagliacci a Parma, invece purtroppo li siamo. Quindi il mio umore è un po' quello, poi dopo vedete voi. Ma no, è corretto, è corretto, ma mi chiedo, hai già detto tutto te, però chiedo anche a Marco, cercando di tornare un po' più sul giornalismo, diciamo così, perché questo faccio io male, ma lo faccio. Chiedo a Marco come si esce da questa situazione, perché veramente sembra davvero che il Parma sia entrato in un tunnel emotivo del quale non si vede mai una fine, mai una fine. Buonasera, prima non ho neanche salutato, buonasera a tutti quanti. Il riassunto di quello che ha detto Matteo, cioè è veramente il riassunto dell'annata e della società in questo momento. Non c'è appartenenza da parte dei giocatori, da parte della società e da parte dei tifosi, perché non sono mai stati coinvolti. La città è fuori gioco, diciamo, da questa grande società e non c'è nessuno che ci mette la faccia, non c'è soltanto Gigi Buffon che si presenta davanti alle telecamere, sui giornali chiedendo scusa e quant'altro, però è la società assente. Se vuoi raggiungere dei risultati, prima Matteo, io non sono tifoso, quindi Matteo può esprimere molto più di me, perché se la sente dentro veniva in ritiro con noi, era ragazzino, prendeva anche degli schiaffi molti, da Taffara specialmente, quindi la vive come tifoso. Io la vivo un pochino da, un po' in esterno, seppur sono tifoso del Parma, è fuori dubbio, però vedo altri sfaccettatori. Si raggiungono risultati quando hai veramente il perno centrale, che è la presidenza, che è la società, quindi i dirigenti e parte tutto da lì e poi dopo a scalare si arrivano i giocatori e mettiamoci dentro anche gli operatori, che sono i magazzinieri, che hanno l'affetto, che danno l'affetto a questa squadra. Qui manca un po' tutto, cioè io vivendola da esterno, come dico, non ho in mente il viso di Pedersoli, si chiama il direttore. Non conosce nessuno, ho fatto due interviste in due anni, in una ha detto che vedeva bene il Vicenza l'anno scorso e a retrocesso, siamo messi così, capisci? È sfortuna. Poteva andare bene. La squadra ha detto meglio il Vicenza e a retrocessa. Ragazzi, scusate se vi interrompo. Stavo uscendo, vi racconto questo, stavo uscendo dallo stadio e un ragazzo ha fermato dei giornalisti che con me stavano uscendo, ha detto ragazzi scriviamo un po' che i tifosi si sono scocciati di questa situazione, noi non vogliamo andare in Serie A, vogliamo gente che almeno dimostri attaccamento alla maglia e conosca la causa. Non vogliamo andare in Serie A. Ma guarda, io credo che i giocatori, è fuori dubbio che ci mettono l'impegno, ma quando dall'alto non ti arriva degli input decisivi, secondo me fai fatica anche dal calciatore, cioè ti giochi la tua partita, finita la partita il risultato, te lo ricordi, sì ma abbiamo vinto, perso, è uguale, si va a far la doccia, si esce col borsellino, macchina. Marco, ma c'è un bambino che va a scuola, che prenda 8, che prenda 3, è la stessa cosa, secondo te, voglio dire, preferisci andare a giocare a pallone che fare i compiti, no? Nessuno gli dice che deve fare i compiti invece che giocare a pallone, e quindi prendo 3, cosa me ne frega me? Certo, nessuno mi dice 3. Anzi, bravo. Ma non devo essere allora? Beh, qui in questo momento ci vogliono uomini di calcio. Allora, 3 cose, una, determinante, un uomo di calcio che sia di calcio vero, adesso ho citato prima Pastorello perché era un grandissimo uomo di calcio, il Pastorello della situazione, quindi uomini di calcio che sappiano acquistare i giocatori, che non si facciano, insomma adesso c'è un mondo anche cambiato con questi procuratori che ti intortano, quindi se tu non sei proprio centrato fai anche fatica perché abbiamo comprato Coulibaly a un milione e mezzo di euro in una serie B francese che non ci siano in serie C dei giocatori come lui, penso a gratis che vengano a Parma, penso che sia difficile. Comunque, primo, uomo di calcio e gente di Parma, o che sia innamorata di Parma, allora ti faccio dei nomi, adesso qui abbiamo Marco, il Sandro Melli della situazione, l'Alessandro Lucarelli, lo stesso Gigi Buffon che a questo punto ha ancora un anno di contratto e dirai Gigi tu sei la persona più credibile che c'è, vai in società, uomo di calcio, sei innamorato di Parma, vivi a Parma, hai portato la famiglia qua, dacci una mano, imposta lo spogliatoio. Ho fatto 5 o 6 nomi, ma è di una semplicità folle, eh ragazzi? Scusate ragazzi, vi faccio una domanda, allora avete detto, è un po' provocatorio, intanto dovrebbe esserci anche Barajer, un giocatore in cui i tifosi spesso si sono riconosciuti ed è forse anche quello che sta mancando adesso, se tu chiedi a un tifoso del Parma chi è l'idolo, ti risponderanno Buffon 100 su 100, nessun altro, al massimo qualcuno ti dice Vasquez, al massimo qualcuno ti dice Bernabè, però Buffon è riconoscibile, quindi avete lanciato il tema della riconoscibilità. Però vi dico, ti faccio una domanda Matteo, la faccio anche a Marco, Buffon ha un anno di contratto, il Presidente va lì e gli dice che deve fare, non so, deve trovare un ruolo, io non so quale sia il ruolo giusto per Buffon onestamente, non ci ho mai pensato, però questo ruolo Buffon, in qualunque ruolo, non rischia di coprire dirigenti che hanno così poca personalità e conoscenza della materia. Ma meno male! Questo che hai detto è il problema vero e proprio, che non ci sono dirigenti che hanno la capacità di. Vogliamo proprio lui al loro posto, è ben questo che vogliamo. Cioè quello che dicevo prima, l'appartenenza, adesso io, è vero che erano altri tempi, adesso ci sono rose di 40 giocatori, nello staff tecnico sono in 15, il dirigenziale ce ne sono 100, prima c'era Pastorello, direttore sportivo, Ongaro, segretario che faceva tutto, la Valeria che aveva i suoi... Mio padre, sempre presente, poi... Finito lì, Migliazzi che faceva il team manager, no? Quando siamo andati poi in Serie A e sono arrivati i capitali, quelli importanti, perché poi dopo lasciamo perdere, è rimasta così. Ma rimasta così? Sono arrivati dopo Fedele e Larini che hanno sostituito, benissimo, uomini di calcio, uno parmigiano. Basta? Basta, di cosa hai bisogno? Si andavano... Di mezz'analista. Bravissimo. Di cosa hai bisogno? Andiamo? Di uno che mi dica che Coulibaly è inguardabile, di cosa ho bisogno io? Dai, cioè, dai, veramente, dai. Poi una volta c'erano meno televisioni, adesso se ne vedo più telecamere in campo. Adesso vedi bene, cosa ho fatto? Ma oltre a la società in generale c'è Pecchia, dato che arrivano molti commenti proprio contro di lui. Pecchia ha abbandonato a se stesso. Quindi dici che lui non ha... Cioè, ha colpi, ma imparso. Beh, oggi ha fatto un disastro, però sai... Dicono ben questo, dicono addirittura che non studi... Non arriva a finire. No? È probabile. Non studia... Cosa che si era scritto prima nel commento, me lo rimandi? Non studia neanche gli avversari durante la settimana. No, 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 attenzione, aspetta, 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 calma. Quella di studiare gli avversari è una buttada clamorosa, perché ve la posso spiegare io. Il signor Balog ha fatto un'intervista ad un sito ungherese nella quale aveva detto con Pecchia ci curiamo meno degli altri, nel senso che... Ho già capito, giustissimo, in scala secondo me gli altri non li vedevano neanche, anche perché loro non vedevano noi, quindi... Ma infatti il problema non è quello, se guarda le partite, guarda gli avversari, studia gli avversari. No, adesso è vero che... Ma sì, ma voglio dirti, chi se ne frega, se tu fai calcio, se tu fai calcio, chi se ne frega? Ma chiaro che le devi guardare. Ma sì, ma sì. Ma mai si conoscono tutti, voglio dire. Ma sì, ma assolutamente. Poi cambia il tempo, vedi una partita con il sole, la domenica dopo giochi sulla neve, il campo ti rimbalza male, l'arbitro è diverso. Cioè, è vero conoscere l'avversario, mi sta bene, e qui tutti gli allenatori Serie A, Serie B e Serie C, ma anche quelli più bassi, conoscono l'avversario, ma non è quello il problema, sicuramente non è quello il problema. Ha ragione Marco, ha ragione anche Matteo. Secondo me, Guglielmo, devi conoscere i tuoi, oggi avevamo 5 undicesimi fuori ruolo, 5 undicesimi, quindi non parliamo dell'Ascoli, io l'Ascoli, oggi ho visto una squadra, poveretti, cioè è una squadra normalissima, organizzata, come è organizzata la Ternana, come è organizzata, una squadra normalissima, con due punte davanti, un po' di peso, cosa devo prepararmi e vedere che forte, è un colpitore di testa, cioè va bene, ok, quindi noi avevamo 5 undicesimi fuori ruolo, alla terza, quarta, quinta di ritorno, questa è una roba folle, cioè questo posso provare a fare un po' l'avvocato del diavolo, cioè, ma se tanti cambiamenti, no? Pecchia li ha fatti, mi sentite? Sì, c'è l'ospite, con noi. Ah, allora precedenza a Barai, perché, solo perché Barai, ciao boss! No, beh, rimani con noi tu però. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao! Ciao, 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 ho provato a sentire il discorso, di cose si parla. Puoi attivare la telecamera? Ma dobbiamo ancora chiamarti posto oppure no? E te mi puoi chiamare come puoi? Ok, va bene, dai, allora, ok, ok. Devi attivare la telecamera però, non si vede, ce la fai? Sì, sì, ce la faccio. Ok, perfetto, ora si vede all'inizio. Attaccate un attimo la telecamera, noi ci vogliamo tutti. Guglielmo, attacca anche tu, così ci vediamo tutti quanti. Grazie per aver accettato di essere con noi oggi, in questa giornata difficile. Io sono in ma... Sì. Attenzione, Guglielmo attento però. Ma Guglielmo, ma sei in macchina? Sei pazzo? Ma c'è... Adesso abbiamo l'incidente in diretta. Arrivata una certa, lo stadio deve chiudere il parcheggio, giustamente anche, quindi io non posso fermarmi più di tanto, però accetto volentieri di parlare con voi dalla macchina. Se mi schianto, ragazzi, sapete tutto, sapete il perché. Pregheremo per te, Guglielmo. Ai 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 ai. Senti, come stai? Io sto bene, sto bene. Come stai andando lì? Raccontaci un po', anche perché parlare di Parma è diventato un po' difficile, però per rompere il ghiaccio mi interessa che tu ci parli un po' di questa tua seconda vita. No, visto che siete tutti nervosi, è meglio parlare di me allora. Matteo, sì, siamo tutti nervosi. No, io sto bene, sto bene, sto veramente bene, sta andando benino. Perfetto, perfetto. Ebbene, fa freddo, però... Andiamo con il freddo. In Serbia fa freddo. Senti, ti manca Parma? Eh, Parma sempre, certo. Ecco, adesso io ho finito le mie domande, ragazzi. Allora, a noi manca senso di appartenenza, quindi se ti manca Parma, vuoi tornare? Che ne dici? Voglio sempre tornare a Parma, è mia seconda casa, quindi non posso dimenticarla, Parma è casa mia. Vedi, manca senso di appartenenza, ci vogliono i giocatori così con noi. Senti, Ives, voi avete fatto qualcosa di straordinario. Avete, siete entrati nella storia. Credo di poter dire serenamente che siete entrati anche nella leggenda, dopo tutto quello che avete fatto. Eravate un gruppo di bravi ragazzi, di sicuro, però di giocatori che si aiutavano, di giocatori che conoscevano la materia, di calciatori anche abbastanza motivati. Che cosa succede, secondo te, in un gruppo in cui non funziona veramente poco? Che cosa può succedere nella testa di ogni singolo giocatore? Che cosa scatta quando anche non arrivano tanti risultati? Ci sono sempre i momenti così. Noi, per fortuna, avevamo i giocatori di esperienza, Luca Relli, Caraiocchi, che potevano, quando le cose andavano male, chiamavano tutti, facevano le riunioni, parlavamo, tutto. Se dovevamo lottare, lo sapevamo. Ci sono dei momenti così, bisogna dire la verità e ognuno in faccia e dire le cose, non dietro i giocatori. Se devi dire una cosa a un giocatore, le devi dire in faccia, non dietro. Quindi questo ci aiuta. Noi avevamo i giocatori così di esperienza che sono loro i primi che vanno in campo a dimostrare che in te non puoi non dare il massimo. C'era Luca Relli, Caraiocchi, tipo di Cesare, dopo che sono arrivati. Prima c'era Corapitutto, noi avevamo sempre parlato, perché Luca Relli, quando andava male, era lì a parlarci, a vedere cosa non va, cosa va. Questo bisogna sempre affrontarci e dire la verità per andare avanti. Avevate, se mi permetti, poi finisco davvero, anche una, come diceva prima Matteo, come dicevano Matteo e Marco, anche una società che vi stava addosso, nel senso buono del termine, un direttore sportivo che si faceva sentire bene, mi ricordo Faggiano, i punti li sbatteva, ecco. Quando le cose andavano male, si alzava la voce. Secondo te è giusto alzare la voce? Si sente il bisogno, anche in voi calciatori, di ricevere qualche dritto, di riconoscersi in qualche punto di riferimento? Noi la pressione, sai cosa era la nostra pressione? Perché noi sapevamo in due risultati, si giochevamo due partite, senza buoni risultati, c'era la riunione, Faggiano entrava, il presidente, tutti c'era la riunione. Quindi noi non volevamo questo, per non avere questi che Faggiano ci parlo, tutto questo cosa, davamo tutto per vincere le partite. Faggiano non ci lasciava respirare tutto, in qualche modo. Capito. E' sempre quello, c'è anche proprio la pressione di avere una società addosso che una volta che arriva la sconfitta una dietro l'altra, insomma, devi tenere testa a questa grande città, insomma. Posso chiedere a Matteo qual è il ricordo più bello che ha di Baraia? Ma tanto già lo so. Eh beh, vabbè dai, troppo fatto. Beh, a parte che Inso ha fatto gol sia all'andata che al ritorno nel derby, qui abbiamo Marco che nel 90 ha fatto gol, quindi diciamo che sono dei ricordi molto importanti. Lo ricordiamo sicuramente per il passamontagna e quella è la cosa più bella in senso assoluto, quella è stata meravigliosa. Però sicuramente il gol all'andata del derby, insomma, in un momento, ecco, in un momento difficilissimo, perché lì c'era stato il cambio che era andato via Gigi, era arrivato da Versa, non si capiva, loro erano primi in classifica, noi eravamo quinti o sesti, grandi difficoltà. Vai a Reggio, è lì che viene fuori la svolta, la squadra, la società, però i risultati non li ottieni per caso, perché poi, quindi sì, grandi, grandi ricordi di Yves. Grazie, grazie. Ma dicono addirittura che attualmente sarebbe titolare in questo Parma, quindi, te l'ho detto. Vabbè, oggi esterno, largo a sinistra, ho giocato Zagaridis, che è un terzino sinistro, quindi sì, oggi assolutamente sì. Ci manchi tanto, allora, tutti i commenti sono molto positivi, proprio, dicono che hai lasciato un ricordo molto positivo. Grazie, grazie a voi, io, l'obiettivo era questo, di lasciare Parma, che mi vogliono bene ancora, io li voglio bene, però lo so che mi vogliono bene con i due gol del derby. E l'obiettivo era questo, essere sempre a casa mia, quando ci voglio tornare, tornarsi sempre. Il problema è, giocare in una città non si può tornare, io a Parma ci torno quando voglio, e poi mi, li voglio bene a tutti, lo so che mi vogliono bene, però li voglio più bene. Qual è stato il tuo ricordo più bello di Parma? Il più bello è dire il derby, perché il derby non si dimentica, gli altri possono dimenticarli, però il derby no, perché il derby mi ricorda, come ha detto Matteo, che prima di giocare il derby c'erano i tifosi al centro sportivo che contestavano, che dicevano. Noi sapevamo che questa partita ci poteva dare la svolta, era il partito più importante dell'anno, io lo sapevo dall'inizio, e quindi noi sapevamo se vincevamo questa partita o poteva cambiare tutto. Abbiamo fatto tutto e abbiamo vinto questa partita e cambiato tutto. Poi da lì abbiamo preso la nostra strada e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Comunque le contestazioni quindi c'erano anche all'epoca, però in un qualche modo riuscivate appunto a trasformarle in qualcosa di positivo per la domenica successiva. Sì, questo sì, c'eravano sempre, noi c'era però noi andavamo in campo e davamo tutto, perché sapevamo che i tifosi ci tengono tutto e per essere tranquilli dovevamo dare tutto in campo. L'importante è dare tutto, il problema è se non dai tutto. Va bene, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, torna presto anche, non so, se vuoi tornare anche in collegamento, perché veramente i commenti stanno venendo fuori l'uno dietro l'altro, sono tutti per te, quindi sarà un piacere anche di averti se vuoi tornare. È sempre un piacere per me, veramente. Ci posso, ci torno, perché il mio giornalista preferito mi rompe ogni tanto, quindi ci torno volentieri. Grande Ives, è stato un piacere rivederti, un abbraccione e un bocca al lupo per tutto, poi ci sentiamo. Grazie a voi, un grande saluto. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ma quindi, cioè, venerdì c'è l'anticipo col Frosinone, dobbiamo fare qualche commento, non so. Dopo le contestazioni, i giocatori si... Io ho dei dubbi, però sono quelle partite che comunque, al di là dell'annata che sarà così altalenante, perché non vedo soluzioni, sono partite che non dico ti possono dare la svolta, però possono aiutare, perché giochi con la prima della classe, hai, diciamo, poco da perdere. Parma ha sempre tutto da perdere, perché dovrebbe vincere sempre, però è come la prestazione della Coppa Italia, ho sentito in giro, grazie a una squadra che dovrebbe giocare in Serie A, perché si esprimerebbe meglio in Serie A. In Serie A ti esprimi meglio perché se tu giochi contro il Liverpool, contro l'Earmadri, farei una prestazione più bella della tua vita, poi rischi di pareggiarla ma perdi. Però dici, questa è una squadra che può giocare nel campionato spagnolo. Quando giochi con delle squadre meglio strutturate, che stanno meglio di te in questo momento, benvengano, insomma. È lì che puoi dimostrare perlomeno che l'annata non è proprio tutta da buttare, ci può essere una piccola ripresa. L'obiettivo è naturalmente quello di arrivare, ci ci auguriamo, nei play-off, ma non la vedo tanto Rosi e A. Quindi è una situazione che figura poi vai a fare nei play-off, perché poi dopo... No, sì tutto, il calcio è bellissimo per quello. Però sai, abbiamo parlato di discontinuità, hai quattro partite in un mese, è proprio la continuità che deve venire fuori. Cos'è, dopo sei mesi, cinque mesi di campionato, l'altalenanza è stata proprio tantissima. Non è fatto un periodo bellissimo, poi una sconfitta e poi ti sei ripresa. Qui è una partita bella, l'altra la perdi. È bellina, perdi e vinci. C'è un'altalena anche di emozioni, una volta i tifosi arrivano tutti contenti. Ho detto che la questione tecnica, tattica, così, secondo me è un secondo... Cioè, è un problema, ma è secondario. Parte tutto dall'alto, secondo il mio punto di vista. Ma è un... detto che hai detto è un'annata da buttare, è un'annata da buttare? Sì, è un'annata da buttare. Sì, è assolutamente. Hai preso pecchia, perché l'allenatore dell'andare dalla B l'ha riconosciuto, che a ultimi tre anni ha fatto due promozioni, hai una squadra con il Monte Ingaggio che, tolto il Genoa, triplica la terza e la quarta. Sì, Buffon è il campione del mondo, il più forte portiere della storia, che è il tuo capitano. È un'annata disastrosa fino adesso. Insomma, dove siamo? Non siamo per terra. Cioè, voglio dire, guarda la classifica, insomma, peggio di così. Cioè, se tu ne vinci comunque adesso arrivare a... Sì, ma se tu ne vinci, e non ne vinci... Ma magari... Sì, ma no, hai ragione, eh, dico. Cioè, la classifica, diciamo sempre che è molto... Cioè, basta anche una vittoria, eh. Potreste entrare sicuramente nei play-off e vincere il campionato. Adesso poi siamo tutti i seri. Ah, beh, sai. Quello sicuro, però dopo poi... Oggi come oggi non possiamo parlare di una squadra concreta, una squadra che ci dà garanzie, anzi, siamo più propensi a pensare neanche, in fondo, nella prima parte, inizio della seconda, che saresti fuori, però. Cioè, il discorso è che non puoi... Allora, se ci troviamo qui a commentare, ma come fanno tutti i tifosi, le chat, le robe, cioè, noi dobbiamo commentare, ah, ma se poi vinci dieci partiti di trofile, vai su, eh, saremo felici e andremo in piazza a festeggiare. Oggi è un disastro tecnico-sportivo il Parma. Ma quindi tu prefer... Punto. Ma io non posso dirti prefereresti che Parma rimanesse, ovviamente, in serie B. Ci mancherebbe. Però ti dico, però ora... Cioè, ora come ora... Ma sai, io ti ripeto... Io avrei paura. Sì, però io spero che... E invece io la vedo diversamente, perché questo è un proprietario con dei denari, ricco, non ce ne sono, non solo in serie B, ma non ce ne sono in serie A, di società che hanno queste finanze. Quindi, chi lo sa, nel momento in cui tu magari ottieni, non si sa come, questo risultato, magari che non gli scatti veramente la molla di affidarsi a qualcuno di calcio e che gli possa comprare degli giocatori importanti. Quindi, anzi, la mia unica speranza è quella di andare su non si sa come e che lui prenda ancora più entusiasmo. Quindi, io speriamo, è l'unica nostra ancora di cervezza. Perché se questo si stufa... E ti lascia a piedi. Ebbè, ma ragazzi, chi è che non si stufa a perdere tutte le partite? Adesso, va bene. Lui no, si vede, però... Sì, però, ovviamente... Io sì. Vabbè, ho capito, ma tanto se hai detto che non c'è società, non c'è niente, una persona può anche investire... Per perdere. Ma oddio, non è che... Adesso comunque se c'è anche che magari costruisce lo stadio... Ma io te lo sto dicendo così, eh? No, no, io ti dico... Perché io ti sento molto provato, quindi mi mi piace da altissimo, capito? Vedi te? Cioè, oggi mi farò cito, non voglio mai neanche presentarsi. Ma sì, ma no, ma ragazzi, anche perché diviene difficile commentare, dai. Cosa con me? Mezz'ora fa prima di iniziare, cosa diciamo? Come dice Marco, cioè non possiamo neanche parlare di cala. Oggi cosa possiamo... Cosa diciamo? Cioè, tecnicamente, come commentiamo nella partita di oggi, sì, si è stato sfortunato... Però è bellissimo. Abbiamo preso due pali, ragazzi, si è stato sfortunati. Va bene, il Parma di Scala è... Tre. Il Parma di Scala era fortunato, il Parma di Pecchia è sfortunato. Andiamo a casa. Finita. E beh, basta, finita. Ragazzi, vi faccio, provo io a riportarmi un po'... Non sto bene il primo tempo, il secondo. Ma non è facile. Se aveste un... la possibilità di parlare con Krauss, adesso, che cosa... che cosa vorreste dire? Ma un po' quello che abbiamo detto adesso. Cioè, lui bisogna che... Una roba... Cioè, è perché è complicato, ragazzi, per parlare con Krauss. Bello di più. Ah, lo so. No, no, ti dirò di più, ti dirò di più, perché poi andiamo nel dettaglio. Non solo è complicato parlare con Krauss, Guglielmo, chi ci ha provato ha ottenuto l'esatto contrario. Ok? Cioè, il problema è proprio quello. C'è gente che... Complicato per quel motivo. C'è gente che gli ha suggerito... Allora, noi abbiamo avuto, l'anno scorso, in una stagione drammatica, siamo arrivati i tredicesimi, abbiamo avuto per quattro mesi... Dodicesimi. Dodicesimi. Sartori, Sartori, che è uno degli uomini di calcio più importanti nel panorama di Serie A, Che, tra l'altro, è parmigiano. Io, tra l'altro, non sapevo neanche. È parmigiano, ha fatto quattro mesi in tribuna sperando di essere chiamato al Parma. Sarebbe venuto di corsa alla sua città, eccetera. Krauss, come i dirigenti del Parma, non sanno chiaramente neanche chi è, non sanno chi è De Santis, quindi, non sanno chi è Cannavaro, quindi lasciamo perdere, gli è stato suggerito. A questa mail non è neanche stata, non è stato neanche risposto, nulla, perché lui fa di testa sua. Bene, i soldi sono suoi, però non ha comprato un bar che se va male non ci va nessuno, chi se ne frega. Lui ha comprato una squadra molto importante, perché è la squadra quarta a livello europeo come vittorie, perché non ha comprato la Reggiana, ha comprato il Parma. Bene, quindi ci possiamo anche leggermente nervosire. Ecco, poi dopo, ripeto, faccia quello che vuole. Cosa gli direi? Gli direi di prendere gli uomini che abbiamo detto, Lucarelli, Melli, Osio, le persone, le persone che anche sbagliando, comunque il Parma, in serie D, aveva cercato di avvicinare, perché hanno preso, bravi o non bravi, non sono io a giudicarlo, simpatici o non simpatici, non lo so, perché hanno preso Scala, Minotti, Apolloni, Lucarelli, è rimasto capitato, perché? Perché sono matti? No, perché? Per essere belli davanti alla piazza, perché sono persone utili. Basta, si fa così il calcio, poi dopo, ripeto, faccia come vuole. Noi tanto... Tornando sempre a... Non è facile raggiungere Krauss, no? Anche questo è un altro grosso problema, no? Che deve essere disponibile e a disposizione di tutti. Tra l'altro vive negli Stati Uniti e si vede spesso, ma è anche problematico questo. È perché, secondo me, ha molte persone, prima di arrivare a lui, devi ragionare con 10, 10 teste e ogni testa naturalmente è... E poi farà il suo interesse. È pensante. Perché se io gli devo andare a dire prendi al posto di Pederzoli, Sartori, e lo devo dire a Pederzoli, sai, diventa anche un po' impegnativo, no? Che li ha... Ma si può arrivare da qualcun altro. Sono sempre teste pensanti e ognuno pensa in modo diverso, ma per qualsiasi cosa, prendere una bottiglia d'acqua o scegliere questa l'altra, se parliamo con 10 persone, ognuno dice la sua. E prima di arrivare a lui è difficile e anche questo è un problema, secondo il mio punto di vista. Poi dopo... Poi dopo... Problema sì. Comunque, oggi era la centunesima gara di Kraus, da presidente, le vittorie sono state 23. Per il resto fate voi calcoli. Quante? Quaranta, quattresima sconfitta. Vabbè. In quanto? 101 partite. 101 partite. Vabbè, vai. Che poco da rito, come dite voi qui. Scusate, non volevo offendere. E come la percentuale? Parlando sempre di sport, visto che è americano, è sport americano, lui è americano, i sport americani sono basati sulle statistiche. nel calcio ci si augura meno, però cavolo, questa è una statistica all'armale. Cioè il Parma perde il 50% delle partite che gioca? Bene. Fosse in Serie A posso capirlo, perché giochi con Milan, l'Inter, qua giochi con la Ternana, l'Ascoli, con tutto il rispetto, il Cosenza e il Cittadella. Beh, diciamo che è un bel dato, o no? Sì, è un dato a mio avviso preoccupante, nel senso che non trova ragione d'essere alla luce degli investimenti fatti, perché quello è il vero, il vero problema è quello, perché se Krauss viene e dice ma guarda io voglio salvare l'Ascola dalla Serie B va bene tutto, però alla luce di quello che ha investito il Presidente, alla luce di quello che ha anche detto più volte per le ambizioni, è un dato che un po' stride, giustamente e fa arrabbiare i tifosi. Oggi veramente per me è stata una giornata in cui ho recepito quasi un po' la resa, spero di sbagliare. No, no, oggi è disastro, dai, non ti sbagli. Anche da casa dicono stadio vuoto e se dicono che se Krauss cosa dice stadio vuoto vedrai che se ci parla Krauss e poi dopo parlano di se non investisse più Krauss nel Parma insomma nessuno comprerebbe il Parma quindi sì, probabilmente. è complicata anche la situazione. Ma no, vediamo che rimanga e molti dicono Krauss via perché fa dei disastri. che rimanga ma che faccia bene però. E invece la rovina è Krauss, alcuni guardano, la rovina è Krauss. Ma sì, ma non è per come gestisce. Ma non è per come gestisce, però noi vogliamo che resti, cioè però che resti facendo le cose fatte come si deve perché ragazzi adesso va bene tutto, non è che se uno ha i soldi io devo battergli le mani perché adesso non va bene tutto, cioè io voglio che rimanga, mi piacerebbe che rimanesse però, cioè se è contento, ripeto, sarà contento. Ma io penso di no, non so. No, no, no. Cioè ha fatto 44 sconfitte e le vittorie perché poi c'erano anche i pareggi che non sono un gran risultato con i tre punti, 23! 23 vittorie! 23 vittorie! No, perché altro giudicate voi ragazzi. Esatto, a te il primo anno ne ha fatte... Il primo anno le abbiamo perse tutte, secondo me. Tre! Tre vittorie! Gaetano ci corregge, 25 vittorie in tre stagioni. Aspetta però, come se quelli di Coppa Italia. Esatto, esatto. Ah no, 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 io sto parlando di campionato. No, no, ma parliamo di campionato, la Coppa Italia poi usciamo il turno dopo quindi non è un problema. E se casa conterna la Modena, Spa, il Benevento e Ascoli 15 punti perse. Beh, in effetti. Ma noi perdiamo con due perché poi si diceva, come diceva Marco prima, sai vai a Frosinone, lo stimolo, giochi bene col Genoa. No, no, ma noi abbiamo perso con l'ultima, con la prima. Certo, abbiamo fatto meglio, sì, va bene, ok, sai, c'è lo stadio pieno col Genoa, hai ragione tu, lo stimolo, trovi il gol, vinci, ok, bene, perfetto. Però non siamo nelle condizioni di poter dire che il Parma gioca a calcio. Poi all'inizio c'era il discorso... anche la partita dopo la partita di Genova, col Genoa, c'è stato Terni, giusto, Terni, è stato un punto... Sì, la partita, c'è che in serie i bici può stare, poi torno in casa, arrivi, ecco, allora dai continuità. Pareggio, vittoria, pareggio, vittoria, dopo vai su e stai lì. Qua, qua, boh, non lo so, non lo so. Guglielmo, cosa dici? Guglielmo ci, no, Guglielmo non lo fa. No, non so che cosa, non so cos'altro aggiungere di sensato a quello che avete detto voi, però chiedo una cosa a Marco e lo chiedo anche a te perché tu sei un tifoso, Marco è stato un ex calciatore. Come si va adesso a Frosinone dopo questo stop perché è complicato anche, secondo me dal punto di vista psicologico, è stata devastante questa sconfitta. Anche perché ho visto, sarà che ho visto Pecchia, l'assegnato, sarà che ho visto Buffon non allargare le braccia come non aveva mai fatto prima. Io chiedo al calciatore o all'ex calciatore che è stato Osio e al tifoso come si va adesso a Frosinone con quale spirito e con quale aspettative? Che cosa bisogna aspettare? Penso di averti risposto prima nelle varie argomentazioni che abbiamo fatto. È la partita che ci vuole in questo momento. Non giocare con l'ultima in classifica dove hai veramente tutto da perdere e sarebbe veramente deleterio giocare con l'ultima e non fare prestazione e perdere. Giochi con la prima e è molto più facile in questo momento preparare una partita così. Secondo il mio punto di vista. insomma Sì sì Poi il calcio Ma il tifoso dove va? Poi il calcio il calcio no il calcio ti dico è bello e lo sappiamo perché poi veramente hai la possibilità penso sia l'unico lavoro al mondo dove ogni settimana tu hai la possibilità di veramente di recuperare perché tu non so come perché però vai a Frosinone vinci 1-0 torni a casa oltre che con i tre punti hai battuto la prima ti carichi cioè ogni ogni settimana tu hai la possibilità di voltare pagina però non c'è non c'è niente per poterlo fare cioè non c'è però è una partita che si prepara da sola ecco questo che però col Genoa a un certo punto in casa così adesso secondo me vai là veramente come dice Guglielmo dopo una partita così proprio sei ma poi sei messo male Guglielmo sei messo male anche in campo se vogliamo parlare di calcio ma oggi cosa ha fatto Pecchia oh cosa ha fatto non lo sai non lo sai eh neanch'io ma cosa ha fatto no scherzo allora ti dico no ti dico questa ti dico questa non scherzo mi è arrivata mio cugino mi scrive commentiamo sulle varie robe mi dice ma scusa hai visto la formazione guardo la formazione scrivo a mio padre solite robe di famiglia mio padre mi risponde qualche aneddoto che fa un po' ridere sono 20 minuti che la guardo non ho capito allora gli ho scritto sarà la panchina e beh sì magari si sbagliano e dici no c'è Buffone e Vasquez quindi non è la panchina cioè io quando ho visto Zagaridis Koulibaly ho detto ma ho pensato che giocassimo a 5 a un certo punto però questo non cambia mai modulo altra roba folle perché hai dei giocatori dopo un po' mettili nelle condizioni di giocare o no perché anche giocare in Serie B con due mezzali che sono uno Bernabè fisichino insomma non è un granatiere e Vasquez che c'ha un passo è un Marcosio che corre la metà perché poi quindi di conseguenza sai non è neanche facile così non è copertura non è copertura la difesa difesa dove allora il più buono dicono dicono i talent così è Valenti Valenti che ha un centrale di sinistra ma ha il terzino sinistro ok Osorio che è scarso a destra gioca a sinistra quindi giù di mano Ballo che è giovane non è aiutato ma sono tutti muti cioè se abbiamo 10 giocatori secondo me su 11 fuori ruolo ragazzi io continuo a dirlo per me ma perché ha tirato giù Zanimacchia perché evidentemente non aveva reso di sotto delle aspettative non ha fatto una buona partita ma Zanimacchia secondo me secondo me non ha fatto una buona partita neanche per me però è l'unico giocatore di calcio che abbiamo quindi sai diventa insieme a Bernabè e Vasquez quindi io comunque lo lascio su però ha fatto male tu dici Coulibaly tutto quanto io credo che ecco l'errore stia a monte perché quando vai a prendere Coulibaly poi non puoi tenerlo e non farlo giocare a lui probabilmente non voglio dire non voglio dire cose inesatte però se Coulibaly non gioca con l'Ascoli con tutto il rispetto per l'Ascoli quando deve giocare se non gioca senza Garitis sta bene e non gioca con l'Ascoli quando è che deve giocare se è un'emergenza però ha giocato esterno alto allora però Guglielmo io vengo da un calcio e Marco mi potrà mi potrà smentire dove in generale chi va in panchina magari non ha tutti i minuti però sta benino no? o stavano tutti male perché Ansaldi Ansaldi deve giocare in quel Parma qua terzino destro o sinistro gioca Ansaldi ma per quanto ne ha Ansaldi quanto ne ha poi dopo verrà tolto eh sono d'accordo sono d'accordo io una cosa che non ho capito per esempio è stata ma guarda che non sto difendendo una cosa che noi non lo stiamo attaccando però ci stiamo facendo dei ragionamenti ci stiamo facendo delle domande una cosa che io non ho capito è stata questa allora tu cambi tu dai fiducia a Charpentier e ci può stare perché lo stai recuperando sta bene ci hanno detto che sta bene deve giocare perché deve è un giocatore di stats è un giocatore fisicamente prestante che trova la continuità se gioca a calcio però poi lo cambi e metti somma poi cambi somma e metti inglese ma cambia prima inglese perché questo senso per quale motivo qual è il senso della sostituzione è in confusione anche lui in questo momento confusione totale Guglielmo confusione totale vogliono le zone da casa te lo dico ultima domanda a quel tempo la nostra esposizione è terminato qual è il giocatore più deludente della stagione un ipotatico simbolo parma calcio tutto ma il giocatore far dei nomi ragazzi mamma mia i nomi devi fare i nomi di quelli più blasonati più forti che hanno reso meno vabbè man è troppo facile hai speso 15 milioni di euro certo però voglio dire lì non è facile fare dei nomi non è facile perché secondo me non mi ne sento di fare dei nomi un blocco intero che viene la vera domanda è questa secondo me perché un blocco intero comunque gran parte di questo blocco intero che è arrivato l'anno scorso dodicesimo è stato riconfermato in toto e loro pensano di avere di aver fatto una gran squadra perché non hanno neanche il coraggio secondo me di andare dal presidente chi l'ha fatta a meno che non abbia fatta lui direttamente e lo trova bene però non penso di dire abbia sbagliato tutto o si può eh cioè noi ragazzi ripartiamo tutti gli anni io li voglio molto bene ma ripartiamo tutti gli anni come punta nostra inglese ha fatto ha fatto dieci gol Marco negli ultimi quattro anni volevo proprio adesso interromperti ma invece non ho hai detto volevo dire la stessa cosa cioè proviamo in attacco no il centro avanti sarà un problema se è tre anni che è qua quattro anni quanti anni è avrà fatto dieci partite enorme e continuiamo a insistere con questi ragazzi qua a me ci spiace che è uno rotto come lui che te lo il Genoa te lo dà se sta bene il Carpentier no cioè è normale no tu giochi ti giochi il campionato e dice ti do il più forte dai prendilo tu così vai in serie a tu non risolvi il tutto però tu il centro avanti non ce l'hai e sono due anni che non hai il centro avanti mi risulta che Pecchia non l'abbia voluto in serie di mercato anche questo va detto Guglielmo ascolta ci fai il pronostico per la partita col prosimone no ragazzi no vi lascio così saluto Marco va bene allora ce lo faranno da casa saluto Matteo Marcello e Sofia un abbraccio ragazzi è stato un piacere alla prossima ciao voi ci fate il pronostico perché potete vincere la bottiglia di Enoteca Galvani pronostico? tra l'altro è un anticipo venerdì io non me la sento sì venerdì sera venerdì sera beh vinciamo 2 a 0 no eh beh speriamo no ragazzi con una battuta speriamo di vincere perché certo speriamo di vincere uno a uno io cioè per per la bottiglia per la bottiglia anche da casa per la speranza è un 2 a 0 è un 2 a 0 è un 2 a 0 grazie a tutti grazie a tutti che sia